Ciao a tutti! E benvenuti nella nostra cucina virtuale che apre le sue porte il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 13 alle 13.30 su Sky, canale 868 E replica dal lunedì al venerdì, dall'1 all'1.30 Di notte? Di notte per quelli là più... E allora 2QRNK vi aspetta con le sue scoppiettanti ricette ogni giorno, dal lunedì al venerdì, tranne il martedì Dalle 13 alle 13.30 sul canale 868 Bravissima! Scrivetevi questo numero e soprattutto segnatevi le nostre prossime ricette Vi aspettiamo! Sempre sulle vostre tavole! Ciao! Ciao!